Già abbiamo saltato Pasqua, non possiamo prendere una prenotazione, tra qualche giorno il primo maggio, non lo so, aspettiamo Natale, forse quest'anno le metterò a Natale gli ombrelloni. L'ultimo weekend caratterizzato dal sole e dal caldo ha ufficialmente dato il via alla stagione balneare con lidi e ristoranti presi d'assalto lungo tutto il tratto costiero della regione. Ma non tutti hanno potuto beneficiare di ciò. Nella zona sud di Silvi ci sono stabilimenti che a causa dell'erosione non riescono ancora a pianificare la stagione estiva. Le immagini parlano da sole e all'orizzonte non c'è traccia di interventi immediati. Molto lento, secondo me non proseguono per niente perché avevano detto che sarebbero ripartiti a settembre, ripeto siamo dopo Pasqua, qui non hanno messo un sasso. Ad oggi non sappiamo se il ripacimento verrà fatto, come verrà fatto, perché come potete ben vedere qui occorre un mare di sabbia, quindi non lo so. A noi non ci hanno ancora comunicato nulla, sinceramente non è che ci crediamo più di tanto. Presto partirà il secondo lotto del ripascimento e per cui la regione Abruzzo ha destinato al comune di Silvi 150.000 euro. Un aspetto però secondario questo lo definisce il sindaco Scordella, che spera invece nello sblocco del decreto per la compensazione dei rincari dei materiali, che tiene ferma nel porto di Ravenna la ditta che dovrà piazzare le barriere soffolte allo scopo di dissipare l'energia del motondoso, favorendo lo scorrimento della sabbia verso la riva e contrastarne il ritorno. La ditta che si deve occupare del ripascimento ha firmato il contratto con la regione, dunque dovrebbe partire da Martinsicuro e pensiamo che fine maggio e primi di giugno sarà anche a Silvi. Naturalmente questo sarà un aspetto secondario perché l'opera deve essere conclusa con le barriere soffolte a cui speriamo veramente con l'adeguamento dei prezzi attraverso il decreto del governo di sbloccare anche questa situazione. Dunque l'intento di questa amministrazione insieme alla regione Abruzzo è proprio quello di risolvere definitivamente questo dramma. Il suo stabilimento oltre ad essere famoso negli anni ma lo è diventato ancora di più perché il generale Figliuolo è stato e sarà sempre vostro ospite e comunque affezionato del vostro valido. Io sono stato con lui l'altro ieri che è tornato a Silvi insieme a una moglie e abbiamo fatto due chiacchiere. Lui mi dice che vuole venire qua perché ci viene da 47 anni e è legato a noi come noi siamo legati a lui e alla sua famiglia. Ma non ci sono le condizioni, ma le pare che io non metterei gli ombrelloni. Io ne avrei già messi 100, avrei aperto il ristorantino per Pasqua, ma non ci sono le condizioni.